ok non c'è adesso? queste video mi tagliate un bar che ho provato adesso andiamo a vedere se la nostra città è Cassino i ragazzi cinesi che fanno l'Italia ok? adesso andiamo perfetto grazie ecco adesso arriviamo all right now ciao amico stai a posto? che dici? ci stanno donne? poco? poco? scusa voi da dove venite? proprio di Cassino siete di Cassino? quanto anni ce l'avete? 23 23 ok fa piacere si sei vecchia? sto scherzando grazie 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 a più tempo noi scusa vuole fare una domanda? scusa sto facendo un fiumetto un attimo vieni amico non lo vuoi perché avete visto la segretaria quale? quale è la segretaria? quella grande è la segretaria quale? no sto facendo una cosa chi balla qua da voi balla davvero balli no chi balla non c'è la verità non c'è la donna ma che si mangia fa danza classica perfetto hip hop cocuno niente ma c'è il cinghiale cinghiale come salta cinghiale come fai il cinghiale ballerino da quale tipo no ha detto che salsamarenghe reggaeton adesso va la moda quale va la moda ragazzi no no tango ballare bravo perfetta la zumba è una tuba le zumba no no perché quale perché voi ascolta perché voi da dove sei segretaria saluta massimo ciao scusi a proposito prego vienacchi vienacchi 50 euro a testa vienacchi vabbè niente a ballare nessun balla qua sicuro veramente no no mi serve mi serve giusti le gambe mi serve le gambe di maschio non di maschio è femmine non di maschio è femmine no no quello di maschio le gambe di maschio si 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 vabbè comunque ragazzi sto scherzando comunque chi vuole ballare le zumba ecco questa è la mia extra manager questa è la mia ragazza manager si baby come stai vieni qua non ti preoccupa e a te l'universo stai dicendo stai dicendo noi ce ne andiamo comunque ciao ciao belle a te lo mani va da solo e? no 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 ma me la vado prendi ok questo dov'è? è il Sofia Sofia? si il 21 questo sabato nel 23 di 25 vedi Ananè Vega si se vieni il 25 al 28 non paghi va bene grazie mille niente ciao 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 Ragazzi adesso andiamo a vedere Le nostre ragazze che stanno Sto facendo Ok adesso arriviamo Per nostra la zona Scusa non capisce? Cerco chi balla qua Chi balla qua? Chi balla qua? Tu balli? Parlo Parlo, solo parlo Però non parla ancora Ti registro parlare vai Scusa, scusa, scusa Sto facendo un filmetto Posso farlo? Voi dovete far sapere Che non esiste niente Ecco la mia nostra amica Un'altra volta Va bene Parlo ci vediamo Ciao ciao Salve Siamo qui Salve Dove essere nessuno Scusate 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no miliardi di altre cose va bene perfetto ragazzi questi mi piacciono questi sono guappi eh guarda qua guarda guarda Italy Italy guarda qua quale crisi wien ma cervo frissima grazie gh non italiani gracias no 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 crisis no 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 piel no no qué suscríbete o no ne so you stilly maybe oh yeah oh yeah oh yeah mamma c'era regusta regusta bene e non pure noi vogliamo i soldi allora ce lo scomportiamo facciamo 50 50 chi sei tu? io? le iene le iene la iene persi fai un attimo gestire con queste due donne dimmi tu come funziona aspetta dimmi tu come funziona basta mi guardare vai 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 bacino 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 oh my god sei italiano? sacco di soldi chi è questo? sacco di soldi ma sei italiano? bravo vai 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 grazie molto persi persi io bulgaro mettetevi vicini dove bulgaria? sofia mettetevi vicini dai itali itali tonni meravigliosi venite qua a vederli vai 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 itali tonni meravigliosi non crisi vai 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 donna won't cry vai vai va vai una bella cancione di queste due donne ed è un trio leo leo bulgaro leo è un trio è Gunster, Gunster Guns N' Roses saranno anche i cazzi suoi i miei genitori stanno a Formia oh Formia questo conosco questo è un grande amico mio questo è un grande stronzo quello è un grande stronzo quello, vedi, quello è un grande stronzo vai Leo, non vuoi un palco? facciamo un bel ballerino chi si fa per gli stranieri? leo, Leo Leo, vieni a farlo apposta chi conosce a te vai 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 oh ma guarda la burgharia è quello che c'è la più c'è chi si è cazzinista, cazzinista chi si è cazzinista la santa no, 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 no non siete sbagliati ragazzi siete sbagliati siete sbagliati io no, la pulità chi si è le sanzi i pesci no, io non capisco eh, com'è, bello? io no io ricordo a te abbiamo fatto un ballo con... qua, vedi, vedi, vedi vedi, vedi 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 si ricorda eccola non dovessi parlare ma il ferocitiano il peggio qua state lascia perdere vedi, si ricorda vedi, vedi che si ricorda eh, cosa volete nascondere lui si ricorda di lei vedi vedi no, no, io la faccia non ho mai scorta mai scorta faccia vedi lui parlava con me tranquillo dove si è ballato? e quelli del meron almeno però vedi Daniela cioè, a Antonella è difficile che si dimentica le cose eppure l'ho dimenticata è strano è strano è strano potete entrare vai vai ragazzi entra no, no, no dai, non metta la mano nel brutto ma state regando mi piace sta cosa oh ma la giacca è ta' pulì sta cosa mi piace la telecamera mi mancava però mi ricordo vai 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 va là guappa va là sono bravo ragazzi noi siamo bravi non crisi non crisi non crisi non crisi non crisi ma non crisi ma non crisi ma non crisi si si Leo aspetta aspetta Leo vai vecchio riprende Leo adesso è un po' più brutto sono andato vecchio dopo 4 anni quanti anni hai 26 ma è piccolo dai sei a fianco a due vecchie dai ma non è che sono quelle vecchie guarda qua che bella vedete vabbè perché se li portano bene però sono vecchie se li portano bene se li portano bene gli anni però sono vecchie dai c'è molto di meglio in giro dai facciamo un'entrata dentro la telecamera mi mancava paparazzo a tutti gli effetti vai vai da quella parte da quella parte maio vado a spegnare se non mi metti la musica maio questo va a dare a registra vai vai questo capito a pennello vai 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 a fiancati may IRA oh e mo immerio alza la musica immerio alza la musica è meglio vai immerio vai baby vai immerio vai che se sai vai vai Ma che stai registrando? Vai, vai, stai riprendendo tutto, non ti preoccupare. Abbraccio, vabbè, fate questo. Non ti preoccupare, non ti sei mai a te. Vai, vai, chiappa, chiappa lei, chiappa lei. Come si chiama? Come si chiama? Abbraccio, abbraccio a lei, fate questo. In inglese? Sì, in inglese. Vai, 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 tranquillo. Antone! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ma vuole brucare la barba. Ma che bella barba. Scusa, non vuoi farmi la barba? Ti guarda se passa di male. Ma stai bene così, stai bene così, vai. Ma sotto te l'hai siffata la barba, sotto? No, sotto si, per l'hai siffata. Chiappa, 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 vai, Antonella, Antonella, a la salute, vai, vai. Non ci posso credere. No, oi, un brindisi, aissa, aissa, vai, a casa, a casa, a faccia che ci va male, vai, aissa, 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 aissa. No, quello è all'amore, al denaro, al paratotto tempo che hai incontrato, alla riba, alla vico, tutto dentro. Quello è diverso, quello è diverso. Facciamo il nepolitano, aissa, 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 aissa. Alla faccia di chi ci va male, vai, tutto dentro, vai. A cosa sta questa cosa qua ? Ma chi è ? Come si chiama ? Dove si stacco ? Ok stacco Questo è grande eccolo eccolo Vai un bacio sexy Cosa ? Ma il nome è Mori Come ti chiami ? Come ti chiami ? Mori Quale squadra sei ? Coriccia 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 fa bella 20 milioni di persone Ragazzi vi saluto Grazie faccio tanti soldi Allora amico mio prenda la camera Ti aspetto domani Aspettala domani ? Ok Ok A che ora ? A le Oh yeah Vieni a São Paulo, Brasile Oh yeah Forte Vieni Forte Oh yeah Italia Prossimo 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 Jogui Rationale Di Sassolo Tiago Mota, San Bernardo, Campos, SOS. Tiago Mota. Della squadra, giocatore di Juven. Giugano? Non, 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 non... Ma, ma, ma! È... Erocopa, Italia e Espanha. Eurocopa, l'anno posto, posto? No, no. Due anni fa. Come fa? Due anni fa. Due anni dopo. Ah, capito. Ok, 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 ok. Due anni dopo, Italia e Espanha. Italia e Espanha. Capito? Capito. La prof. Baby, allora domani alle squadra Mucambo. Mucambo. Caffè Mucambo domani. Ma fa l'ultimo saluto da Baby. Vai, vai. Questa è mio Baby. Seconda Baby. Maestra, grande maestra. Grande maestra. Grande maestra. Grande maestra. Ci siamo domani. Grande maestra di grande maestra. Non lo so, se non parto ci vengono a te. Vieni, non te ne pentirà. Buonasera. Ciao. Ciao. Questo grande amico. Sì, però aspetta un attimo. Come si chiama? Sì, però aspetta un attimo. Come si chiama? Come si chiama? Sì, ma mi dimentico. Sì, mi chiamo Persi. Signor Persi. Signor Persi. Signor Persi. Signor Persi. Signor Persi. Capo Eda. Capo Eda. Capo Eda. Capo Eda. Capo Eda. Io sono Polizia. Polizia. Brasiliana. Guardi. Ok ragazzi. Oddio, mamma del suo. È vero? Fammo fare un grande saluto da amico mio, no? E che caolo. Ecco, domani sera... Domani sera... Domani sera... Domani sera... Domani sera... No no, domani sera ci stanno altri Zoldi. Ma che ore sono? E per gli mandorai. Grazie.